Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video vado a risolvere due problemi trovati su un testo che sto adottando con i miei ragazzi a scuola nel capitolo relativo alla teoria cinetica dei gas. Vedremo però che sono due problemi che riguardano in realtà a principalmente gli urti di particelle che viaggiano ad elevatissima velocità vedi degli elettroni o di oggetti come i proiettili che viaggiano comunque a velocità significative. Primi gli elettroni contro uno schermo, quindi si parla di tubo catodico, i proiettili contro una parete. Vi ricordo che se vi piace quello che propongo potete iscrivervi al mio canale in modo da non perdervi gli aggiornamenti. Questo primo problema dice che nei televisori con tubo a raggi catodici lo schermo si illumina perché viene colpito posteriormente dagli elettroni che viaggiano alla velocità di 8,4 per 10 alla 7 metri al secondo. Si fermano quando urtano lo schermo. Ogni secondo lo schermo, che ha una superficie, un'area, di 1,2 per 10 alla meno 7 metri quadri, è colpito da un numero enorme di elettroni 6,2 per 10 alla 16. Ciascuno di essi ha una massa di 9,11 per 10 alla meno 31 kg. Ci viene chiesto di calcolare la pressione esercitata dagli elettroni sullo schermo. La situazione è quella che vedete quindi rappresentata in figura. Dal retro dello schermo ho rappresentato il possibile ecco punto di impatto di un singolo elettrone che colpendo perpendicolarmente lo schermo va a esercitare una forza indicata con F perpendicolare allo schermo stesso. Questa forza con l'impatto, con l'urto, andrà quindi a generare una pressione. Vediamo come risolvere il problema stesso. Prima di tutto trattandosi di pressione ricordo che possiamo definire la pressione come il rapporto tra la forza esercitata perpendicolarmente a una superficie e la superficie stessa. Trattandoci di urti vado a utilizzare il teorema dell'impulso che qui richiamo il prodotto tra l'intensità della forza e l'intervallo di tempo che è solitamente istantaneo è pari alla variazione della quantità di moto. Il prodotto quindi forza per intervallo di tempo può essere scritto come massa del singolo corpo, del singolo oggetto, per la variazione della velocità. Questa è la variazione della quantità di moto. In particolare in questo caso vado a utilizzare l'espressione della forza media che in realtà riguarda appunto questo processo, che in realtà viene esercitata. In generale quindi la forza la possiamo esprimere come massa per variazione della velocità fratto l'intervallo di tempo e scalarmente quindi esprimo invece la forza media come massa per velocità per l'intervallo di tempo. Quindi è una semplificazione in realtà del teorema dell'impulso. Nel nostro caso quindi la pressione è pari alla forza fratto la superficie. Supponendo che ciascun elettrone vada ad imprimere la stessa pressione, quindi eserciti la medesima forza, a numeratore vado a scrivere la forza, quindi il valore medio della forza di ciascun elettrone, per il numero degli elettroni. Infatti la forza totale, complessiva, sarà la somma di tutti i contributi dati da tutti gli elettroni, da ciascun elettrone. Esplicito quindi la forza media come massa del singolo elettrone per la velocità che esso ha un istante prima dell'impatto, ovviamente, fratto l'intervallo di tempo, recuperando l'espressione della forza media vista precedentemente. A questo punto basta andare a sostituire tutti i valori che ci vengono dati stando attenti alle unità di misura. Quindi abbiamo 6,2 per 10 alla 16 elettroni, la massa di ciascun elettrone, il tutto in un secondo, la velocità con cui viaggiano questi elettroni e la superficie dello schermo qui al denominatore. Andiamo a individuare, svolgendo correttamente i calcoli, una pressione di 40 pascal, una pressione complessiva di 40 pascal. Passo ora a un secondo problema. Qui, come vi anticipavo, si parla di proiettili. In questo caso ci viene detto che in 10 secondi 200 proiettili si conficcano perpendicolarmente in una parete. Si tratta di un urto anelastico. Ciascun proiettile ha una massa di 5,0 per 10 alla 3 kg, questo è un 10 alla meno 3, stiamo attenti, e velocità di 1200 metri al secondo. Qual è la variazione della quantità di moto dei proiettili ogni secondo? Supponendo che i proiettili si vadano a conficcare su un'area che ha un'estensione di 3,3 per 10 alla meno 4 metri quadrati, calcola quindi la pressione media, attenti alla pressione media, che si esercitano su questa porzione di parete, quella dell'area che così ci viene nominata. Allora, la situazione è, qui ho rappresentato un singolo proiettile, analizziamo il tutto in un intervallo di tempo di 10 secondi, ogni proiettile viaggia perpendicolarmente alla parete con una certa velocità iniziale, di cui ci viene dato il valore, la parete ha un'area nota. Naturalmente, quando avviene l'impatto, ciascun proiettile andrà ad avere una velocità che è pari a 0 metri al secondo. Volendo determinare, sempre utilizzando la forza media come caso particolare del teorema dell'impulso visto precedentemente anche, possiamo esprimere il rapporto tra la variazione di quantità di moto nell'intervallo di tempo come l'opposto, in questo caso attenti a quel segno meno, della forza media. della forza media. Questo rapporto può essere quindi esplicitato come variazione della quantità di moto pari a massa per variazione della velocità fratto l'intervallo di tempo. La massa, per quanto riguarda la massa, se ciascun proiettile ha una massa indicata con m per p, la massa totale di tutti i proiettili che si vanno a conficcare è pari al numero dei proiettili per la massa di ciascun proiettile. La variazione della velocità è la velocità finale meno velocità iniziale. Come vedrete, la variazione della quantità di moto rispetto al tempo assumerà un valore di segno negativo, infatti i proiettili che si vanno a conficcare sulla parete perderanno energia cinetica in quanto andranno appunto a diminuire la propria velocità. Andando a sostituire i valori che ci vengono dati e sono noti nel problema, quindi 200 il numero dei proiettili, la massa di ciascun proiettile, state attenti qui, ripeto, l'esponente è un meno 3 che mi è scappato, il tutto ci porta a un valore di meno 120 newton, meno 120 newton. Questo è il valore relativo alla forza media, quindi in modulo siamo a 120 newton. Volendo calcolare quindi quella che è la pressione media, ricordando che la pressione come prima è il rapporto forza-fratto-superficie, possiamo determinare la pressione media andando appunto a determinare il rapporto tra la forza media, visto che ci chiedono la pressione media, e la superficie stessa. Sostituendo i dati, quindi 120 newton trovati precedentemente e l'area che ci viene data dal testo del problema, l'area della porzione di parete, otteniamo per la pressione media un valore di 4,0 per 10 alla quinta pascala. Notate che si tratta di un valore di pressione significativo, siamo a circa 4 volte quella che è la pressione atmosferica. Magari ci si poteva aspettare qualcosa di più, ma teniamo comunque conto che i proiettili non hanno una massa enorme. Quindi è dovuto essenzialmente a questo. Questo valore non è enormemente grande. Ecco, direi che con questa considerazione posso concludere questo video. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.